più della metà degli occupati nei nostri comuni non è in possesso del titolo di laurea il paese il nostro che rispetto a tutti gli altri paesi dell'occidente ha un livello di scolarizzazione nella pubblica amministrazione tra i più bassi e questo finisce con l'essere penalizzante non soltanto per le politiche che poi dovranno essere prodotte all'interno di questi enti locali come per esempio sta accadendo con il pnr cioè la possibilità di scrivere progetti che vengano finanziati e che siano scritti soprattutto nella maniera giusta ma è una penalizzazione anche più complessiva perché la qualità ripetiamo delle politiche che si producono non hanno soltanto del ceto politico il loro riferimento di base ma anche in chi poi deve rendere tutto questo in maniera gestionale possibile a realizzarsi quando parliamo di un paese il nostro che è rimasto indietro almeno da 30 anni a questa parte facciamo riferimento alla sua classe politica sicuramente in molti casi impresentabile e non all'altezza del compito ma anche alle alte burocrazie e le pubbliche amministrazioni e il personale che lavora all'interno delle stesse ne è un esempio e noi non siamo come la francia che abbiamo una scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni e quindi dobbiamo ovviare a tutto questo con una selezione all'interno dei comuni per esempio che innalzi un tantino la qualità media di chi appunto ci lavora e la qualità appunto passa anche da un livello accademico che debba contraddistinguere gli stessi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti